Il fiume Po continua a crescere, poco meno di un metro rispetto a ieri. L'altezza è vicino ai 5,30 metri, continua a crescere e soprattutto preoccupano le piogge che potranno scatenarsi domani sia sul Piemonte che sull'Emilia Romagna e la Lombardia. Questo potrebbe fare ulteriormente crescere il grande fiume che sta a questo punto lambendo quella che è via Ninobixio, manca poco meno di mezzo metro al livello stradale dove ci sarebbe poi quindi l'esontazione. Vedremo che cosa succede nelle prossime ore.